Ciao a tutti ragazzi, ecco di nuovo riemerge dalla nebbia, la nostra nebbia preferita, la nebbia dello svapo. E niente, anche oggi si parla di liquidi. Si parla di liquidi perché nella sostanza mi sono accorto che su YouTube, su internet, si avranno moltissime, moltissime recensioni sull'hardware. Perché? Perché comunque i YouTuber probabilmente sono più propensi a recensire l'hardware. Non lo so, il motivo nella sostanza non lo so. Però si trovano moltissimi hardware e non si trovano invece tantissime recensioni sui liquidi. Io invece ritengo di fondamentale importanza recensire il liquido perché sì, è vero e lo sottolineo, lo sottoscrivo, lo ripeterò mille volte, il parere sul liquido, le impressioni sul liquido sono estremamente soggettive. Però ci possono aiutare a farci quantomeno un'idea. E quindi anche oggi ho deciso di recensire un liquido per l'appunto. E nello specifico parliamo del Fuck Jerry, il Cookie Monsters. Liquido ovviamente americano, molto denso, 80-20. E niente, mi ha incuriosito sinceramente la, tra virgolette chiamiamola la ricetta, perché parliamo di biscotti, un sandwich di biscotto. Quindi questi biscotti con gelato alla vaniglia e gelato alla fragola. liquido è molto giallo e molto denso, come vi dicevo, 80-20 parliamo. E niente, lo sto provando da diversi giorni e devo dire che è molto, molto, molto buono. L'ho messo sul Griffin, sulla nostra bestiolina, il Griffin da 25, devo dire che... A prescindere che fa una quantità di vapore impressionante. Scusate. Veramente, veramente impressionante. E poi è buonissimo. Lo sto provando a diversi vattaggi. Oggi sono salito parecchio, 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 perché lo stavo svapando, intorno ai 50 watt. E la nota di fragola era molto, non dico prepotente, perché non è mai così invasiva. Comunque è una fragola che rimane abbastanza delicata. Però era comunque importante. Cominciando a salire parecchia, adesso siamo sui 70 watt. diciamo che comincia a uscire bene anche la vaniglia, che non è però delle più forti, anche perché io non amo moltissimo la vaniglia molto aggressiva. E si comincia a percepire il biscotto. Nella sostanza, ragazzi, mi sto accorgendo che questo biscotto fa fatica ad uscire un po' in tutti i liquidi. Che poi è la cosa che mi piace di più in assoluto e sto continuando con le mie sperimentazioni. Ho preso anche altri aromi di cui parleremo e sto tentando di ricostruire. Adesso stanno in maturazione i liquidi, quindi poi ne parleremo. Se riesco a fare qualcosina, poi vi darò le mie ricette. Se devo, comunque, continuando a parlare di questo liquido, fare un paragone con un altro liquido è il Black, l'Origins, che ho provato. Mi è piaciuto tantissimo. Sempre queste fragole con questa sorta di crostata di fragole, con questa panna. Lì, poi sicuramente mi sbaglierò, sicuramente il palato di ognuno di noi è assolutamente diverso. Forse la fragola, che era comunque molto molto buona, era leggermente più acidura, ma proprio di pochissimo. Comunque i due liquidi possono assomigliarsi. Io l'ho finito da parecchio tempo, ma ho conservato la bottiglietta, perché è una bottiglietta molto carina, nera, una 30 ml. Io la utilizzo adesso per fare, non so se riesco a mettere a fuoco, i miei liquidi. Qui per l'appunto ho provato con un biscotto, non si vede benissimo, crema, pasticcera e fragola, per vedere un po' quello che esce fuori. Sempre tornando alla sperimentazione, sto provando un altro che i lime, perché l'altro che ho provato, diciamo che non è venuto benissimo. Si svapa, si svapa anche magari tutto il giorno, perché comunque non mi è venuto fortissimo, ma non si avvicina neanche lontanamente al Keira in Cucchi o alla Isolani della Five Pounds. E ho provato a fare, non so se riesco a mettervelo a fuoco, va bene, ve lo leggo, un biscotto aromatizzato al 20%, innanzitutto la base, perché mi piace un po' sul modello americano, molto carica di aromi, perché voglio sentirli appunto. Aromatizzato al 20%, con un biscotto, una crema e il lemon lime. Vediamo un po' adesso, a pochi giorni, vediamo un po' poi nel tempo quello che esce fuori, diciamo. E niente, io posso, mi sento di consigliare questo liquido, perché è un liquido che a me è piaciuto tantissimo e poi mi dà proprio voglia di svaparlo. Cioè, quando so per un po' di tempo senza svaparlo, poi mi viene voglia di, appunto... Sovra a dire che la produzione di vapore è incredibile, incredibile. È vero che il Griffin fa il suo lavoro egregiamente, però, come avete potuto vedere, la produzione di vapore è veramente, veramente importante. Niente, provatelo, fatemi sapere che ne pensate, così possiamo magari scambiarci le nostre opinioni. Un abbraccione. Facciamo un'èiera малень notationいい e quella delle ci testi che viene Grazie.